Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Oggi signori siamo tornati qua sul campo da calcio Signori, il mese più bello dell'anno E sapete perché? Perché si mangia! E' capodanno? No? Natale? No, perché faccio gli anni ragazzi Oiii Romer! No no, c'è troppo Ma questo è un altro discorso Oggi signori Nesca Christmas Challenge Che è la challenge Riferita di Super Alan E quindi ho voluto mangiare questo tributo Vediamo che se non dovessi vincerla Vado a piangere negli scogliatori Perché fa Alfredo Che cazzo dici? Allora signori Tedesca la conosce tutti quanti Faremo 6 punti il portiere 5 tutti gli altri Prima di iniziare con il video però signori Volevo dirvi che finalmente è uscita la nuova collezione di Topps Inerente alla Champions League La raccolta che ovviamente signori raccoglie i campioni delle squadre di tutta Europa In edicola e sul sito di Topps ovviamente ragazzoli Potete trovare l'album, i pacchetti, lo starter pack Ragazzuoli Qua dentro quest'anno hanno fatto una roba che secondo me è bellissima Perché dentro ogni box abbiamo una figurina rara Impact parallela Cosa significa questo? Vuol dire che per ogni box ragazzuoli possiamo trovare uno stickers numerato Ed ovviamente signori voi mi seguite lo sapete quanto le card, gli stickers in questo caso numerati Siano importanti a livello di collezione Quindi ragazzuoli se posso consigliarvi andate sempre sicuro col boxettino Io un pacchetto signori ve lo apro e ve lo faccio vedere Magari c'è proprio la numerata in diretta Vediamo un po' Sesco, gran giocatore Poi qui abbiamo Elmas del Napoli Trimmer abbiamo Lekovic Attenzione ragazzuoli, là dietro vedo qualcosa Gundogan ed infine, attenzione, super striker ragazzuoli di El Nesri Quindi signori ci vediamo anche in quei 6 giorni per completare assieme questa collezione Io vi invito ovviamente ad iniziarla e ovviamente a finirla Detto ciò proseguiamo con la nostra tedesca Andrea porti in porta Che cosa sta signori? Guarda Eccolo Controbalzo Controbalzo per me è porta Per me controbalzo è andata in porta Andre è controbalzo Eh sì Andre I piedi delle persone Io segno la limbo Putta la legata Il primo così Come fa lui Ogni cosa vada al punto eh Oh dai For Christmas It's a rinasi da port Andiamo Sembra Sembra i mails In questo caso Un po' la parella Bello Mamma mia No 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 Ma tu hai andato eh Henry Oh Si È uno È uno così eh Qua Un Henry Un po' la posto Un po' la pure Oh 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 Andiamo così raga Un suicidio Vado Quello che voglio per Mirko Quello che voglio Natale Che Mirko Esploda Ecco qui C'è odore di vischio Oh Oh Un po' la salita Un po' la salita Un po' la salita Un po' la salita Di Natale Sì Vado Credito No non va No non va 5 metri Ah Ah Non c'è odore di vischio No Vuoi uscire Tu vuoi uscire a Mirko No No Eh Il piano incredibile È cross E per l'andrà a posto No No Oh Senza andare in borsa È adesso bravi Si vuole ragazzi Oh Sei cross Oh Sì Sì Aspetta Aspetta Sì Finale Dei King Corner Liberata Vai a Charla Lasciarla dai in borsa Sì Sì E questa è in borsa Cino Quanto sia due Ah Si è sbagliato Ragazzi Allora Aspetta 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 Mirko Si si tira Non ci credo Ma cattonata No No L'ho visto Lasciam dire Buona raga Dai Ok Ale Oh Ok Che partaglio È ancora a terra Dai Sì Sì Wow Fatto tre assi Sei intanto Ok Hai da precisare Superalla Contate gli assi Di superalla Non i gol Valgolo Valgolo Oh 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 Toccate Oh 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 Ti faccio lamentarsi anche in una tedesca Buon amici di sempre A Natale Più che altro Mirko sconsolatisci Sì 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 Come segnalo Come segnalo Oh Un po' controbalzo Mirko da contratto Tira solo così È gol È gol di Simo eh Meno uno Oh Jordan Non tirare Jordan Ma dove sta Qua 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 È gol Di cappellino ha segnato Qua 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 Ciao Andiamo raga Edito su TikTok Sì 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 Ecco perché non tiravo Vinicius Tre Due 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 Quattro Quanto vale Quando Quanto Tre Oh sono due Due perché ti l'avevi subito prima Ci ritiamo sì 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 Ma vede Ragattro Eh no Eh no Il cappellino fa No Il paio Vieni qua Chi si fa No Oh 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 Andrei Oh Oh Ciccola Il gol della vita Ma non l'hai fatto Oh 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 Andre Andre No No Alza! Alza! Fai gol! Si si! Simo sei in porta con un punto perché tu a Cugino ha sbagliato tutto! Vedi, parlo parlo! Stavo il tempo di far uscire Uco Oh! Eeeh! 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 Siamo per te la alzata! Che ne vede? Alla, è totalmente fuori! Per primo! Chi è tocca a due? Oh! Dov'è lì? Cristo! Cristo! Da uno! Ma no! Dai, in questo momento, quella alzata! Ahahahah! Voto! Ma... Io non vedo la faccia di fare in quanto... E se... E se scuola... E se scuola... Nooo! Nooo! Guarda! Raffa un po' di farlo! Boom! Oh! Oh! Ma che c***o? Non riesce a pulire mai! Cari, ti tiro forte e poi la metti con me la pietra! Quanto sa... whoever! C***o! Segue, è poca! Il pezzo! Ti c***o fuori! Uh... E dove c***o muore? Sì! E quindi? Dai! no, non è vero, sei colpatico, ti ricordo eh cristo cristo out ma io non ho fatto tre, ma perché hai già segnalato in giro? devi fare un altro gioco vado! che riminocatore calcio di rigore, signore masticato, però come mi insegnano gli juventini basta fare un gol in più dell'avversario ma no, vale vale ho paura non lo dico si si ma mia forte calcio di rigore e dopo cristo facciamo fuori la famiglia oh tranne anche qui l'ho detto io e due vai vale, tira sì sì oh capatai tre hai caldo io due fischio elimina wow alle bello questa è una colazione calcio di rigore bianco 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 dentro eh attenzione enrico sboglia e va in porta quanto sei eri? tre? tre poi a tre a tre a tre una lettura di merda una lettura di merda andamia ma c'era bellissimo ragazzi eh la coordinazione pure calcio di rigore questa volta questa volta verrà contro il portiere ragazzi c'è pure a porto ma aspetta ma aspetta siamo i miei ombo mi pare a uno c'è un po' c'è un po' c'è un po' Napoli-Roma la partita decisiva quindi sbaglierò sicuro no devi fare gol ok un altro che se ne va io volo non l'avevo toccata si si l'avevo pure toccata calcio di rigore calcio di rigore no per favore per ora per i rigori battuti zero sbagliati parte e quindi signore a lei è nato 53 eliminato è rimasto come lo fa il tuo 1 sicuro per Henry dai Henry tempo eh per un pattern si si una pari e allora Henry non so perché mi sento un pallonetto let's go se finisce il pareggio vincono tutti per il Natale va bene ragazzi facciamo una cosa che se finisce il pareggio vincono tutti per il Natale va bene? ok eeeh sul suo canale adesso ditevi per chi avete tifatelo? per Henry per te per Om per Om per Omar Amu no maio del Natale nooo grazie ragazzi che latrina vabbè forza Juve quindi signori questo video finisce qua mi raccomando passate al canale ragazzuoli che sono usciti tanti altri video sul campo noi ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 grazie per la visione raga sempre di Vinci non c'è niente da fare